Possiamo iniziare, buon pomeriggio a tutti, mi fa piacere aprire questi lavori innanzitutto perché sono molto affezionata a Seiscalt, Seiscalt che quest'anno esce con questa brochure che a noi è piaciuta molto perché queste spezie stanno proprio un po' a rappresentare tutti quei, diciamo, mondo magico di odori, di aromi, di spezie quindi, quindi di sapori che devono alimentare la nostra vita lavorativa ma che deve anche alimentare tutta la nostra formazione infatti abbiamo voluto proprio farci rappresentare da questo mondo per trovare questa grande assonanza tra sapori e sapere, spesse volte sono slogan che vengono utilizzati e a noi piacciono molto perché mai come in questo prodotto ci piaceva rappresentare da un lato il fatto che nella formazione ormai ci vuole sempre qualche cosa di più, quindi la spezia è quello che rende il sapore unico, lo rende speciale ma anche la spezia, prego prego, buongiorno, prego prego, ma anche ci piaceva rappresentare un po' il mondo, cioè oggi quando anche dobbiamo affrontare questo tema della cultura delle vendite dobbiamo sempre di più immaginare una società molto culturale, una società globale in cui insomma il monte degli affari ormai è veramente molto molto ampio, quindi ecco questo per subito cominciare a spiegare il perché di questa immagine e devo dire che per fare questo devo ringraziare molto sia Antonella Mustorgi che è responsabile del progetto ma anche la nostra Monica Pignatelli che anche lei con molte spezie cerca sempre di condire i nostri prodotti, perché poi l'aspetto creativo della nostra formazione è importantissimo ma soprattutto perché la formazione deve anche darci delle emozioni, cioè non è che certi concetti possono passare così senza che scuotano qualche cosa dentro di noi, quindi Seiscal per noi è questo è un mondo di emozioni, è un mondo di vivere la formazione in maniera molto molto intensa quindi con tanti profumi, tanti sapori, tante nuance e credo che la capacità di Schilab in questi anni sia proprio stata quella di saper innovare i propri prodotti, oggi sulla torta di Seiscal ecco possiamo mettere queste dieci candeline ma direi che ogni anno, come diceva anche Antonella e Carlo, ti ringrazio di essere qui, Seiscal è un po' come un neonato, tu dicevi perché è quel bambino, quindi vi chiamo veramente tantissima attenzione e quindi ogni anno ci sono veramente delle novità, questo per dirvi che c'è un aspetto di progettazione e di rivisitazione di tutto quello che viene vissuto durante l'anno nelle intenzioni che facciamo al punto che anche le persone che sono cresciute con noi restano legate a noi quando noi sosteniamo a viva forza che oltre 200 persone hanno moltiplicato i loro volumi di vendita e il loro business è proprio perché non solo hanno avuto questa formazione ma sono stati legati con noi nel tempo, abbiamo avuto la possibilità di sentirci costantemente e questo insomma ci ha dato veramente la forza di continuare, quindi pensando veramente che questo sia un prodotto tra l'altro vi dico unico perché non esiste agio sul mercato che oggi possa supportare veramente le persone nell'andare a sviluppare dei nuovi business, si uno può andare alla bocconi ma direi che noi nel nostro piccolo crediamo di avere veramente delle attenzioni a delle aree di business e anche di miglioramento di performance delle persone che credo siano uniche quindi dicevo che anche qui come un aspetto magico, questa magia come dire nasce dalla capacità di coinvolgere sempre le persone che sono anche qui a questo nostro tavolo ma poi il tavolo si arricchisce per cui dicevo ringrazio molto il presidente del club dirigenti marketing vendite il dottor De Carolis che si segue da tantissimo tempo, ringrazio il coordinatore di questo progetto che è il nostro Alessia Giacchini Ricca, l'anno scorso quando noi abbiamo presentato questo bellissimo progetto aveva appena scritto un libro sulle tecniche di vendita che abbiamo poi diffuso nelle nostre aule e oggi abbiamo anche questa novità di Già, di Jan Vinder che anche lui ci ha permesso veramente nelle aule di portare avanti questo grandissimo tema della dimensione culturale del nostro business quindi io lo ringrazio molto perché oggi abbiamo anche come dire una sua pubblicazione ma questo per dire che in sostanza viviamo queste esperienze formative con delle persone che sono capaci di innovarsi e di raccogliere anche attraverso il vissuto delle loro esperienze degli aspetti da trasferire ancora ad altre persone quindi io credo che in questo c'è un grandissimo valore ringrazio la dottoressa Carletto che oggi ha già autore di aule perché è stata al nostro corso del sviluppo dei talenti e ovviamente è un'esperta di comunicazione e con noi sta lavorando molto molto bene sia nell'ambito di questo percorso che dicevo del sviluppo dei talenti e anche in un bellissimo master che abbiamo da poco completato insieme ad Alessio sul talenti per l'export, un progetto molto bello che visto anche la testimonianza del nostro dottor Rana questo per dirvi che insomma su questi temi siamo molto presenti quindi ci interessa formare il giovane, ci interessa formare i manager, ci interessa formare i tecnici ci interessa formare gli imprenditori, i figli di imprenditori insomma tutti coloro che nella vita devono non solo vendere e fare business ma anche sposterei anche l'attenzione su come ciascuno di noi nella vita debba essere comunque vincente quando deve presentare un'idea, un progetto, un qualche cosa che comunque entra, fa entrare in gioco tutte le abilità di tipo negoziale perché oggi saper vendere un'idea è una delle cose più difficili del mondo vendere un prodotto quasi può essere più facile perché è più tangibile questo è solo per dire come è sempre molto complessa e con tutta la tecnica della vendita ma nel nostro percorso ovviamente noi punteremo moltissimo sugli aspetti legati allo sviluppo delle capacità manageriali e poi certamente alle technicalities, agli strumenti e in questa edizione in maniera specialissima avremo anche i focus ecco questa è una cosa molto bella che dice Alessio, dice che carezzavamo da tempo l'idea di portare in quest'aula dei grandi personaggi e l'abbiamo fatto e lo faremo quindi questa mi sembra una cosa bellissima cioè quello di andare oltre l'aula nel senso di quando vi dicevo prima di essere riusciti a creare questo grande spirito di gruppo mi riferivo proprio alla capacità in questi anni di avere ritrovato le persone che sono venute in queste aule e quindi che il confronto continui quindi noi abbiamo quest'anno proposto un filone interessantissimo che riguarderà incontrare sia i giovani e non giovani che hanno frequentato Seiscalt con dei guru e dei temi estremamente interessanti che potranno come dire magari sulla carta potrebbe sembrarci quasi come dire non dico che siano un po' fuori ma sono proprio quegli stimoli che vogliamo darvi per creare del mindset non a caso quindi parleremo di tre temi fondamentali che sono uno quello molto strategico oggi per le aziende che è quello dell'e-commerce quello della vendita online e credetemi oggi questo è diffusissimo anche per le aziende che non sono B2C ecco quindi questo è importantissimo quindi portarvi attraverso questo focus un'innovazione nella cultura delle vendite e non solo parleremo di per esempio resilienza resilienza è un tema che mai come in questi anni è stato importantissimo perché non solo le aziende hanno dovuto dimostrare di essere forti e di restare sul mercato ma di avere questa grande capacità ecco di guardare anche dentro l'azienda e quindi cogliere questa opportunità anche per migliorarsi ma soprattutto per essere veramente comunque vincenti ecco pur nella situazione come dire complessa e difficile tocchiamo appunto di eccellenza ad avere con noi Marco Berri ecco penso che chi abbia avuto modo di guardare anche come dire un po' di media alcuni programmi un po' effervescenti dico a partire dalle Iene a tanti altri che si sono inventati sulla televisione ecco Marco Berri è diventato un personaggio veramente importante ecco lui è un esperto di magie quindi voi mi direte che cosa c'entra la magia ma questo come dicevo perché abbiamo voluto parlare di spezie e di universo magico ecco perché parleremo anche di magia quindi capire come ricondurvi attraverso questi momenti speciali che faremo dalle 5 in avanti quindi questi sono aperti a tutti quindi non solo a chi parteciperà a tutto il percorso ecco ad immergervi in un mondo assolutamente nuovo ma che troverà sempre dei punti di incontro con quello che è il business, l'innovazione e il futuro ecco quindi questi sono secondo noi degli aspetti fondamentali per cui anche oggi avvicinarci alla magia e scoprire tutta una serie di aspetti che fino a ieri magari ci sembravano lontani anche da quello che poteva essere una cultura aziendale con noi ve li vogliamo portare su questi tavoli ecco perché siamo sicuri che sono non solo degli aspetti arricchenti ma che daranno dei frutti importanti ecco come dicevo nel borso di me stesso quindi io a questo punto ho aperto le danze e passo la parola ad Antonio faccio un applauso a lei grazie a tutti